... Blitz antidroga a Giarre, due persone arrestate per possesso e spaccio di droga, uno dei due, un vigile urbano in servizio a Giarre. Al via ieri ad Acireale, l'edizione 2019 del Carnevale, la prima con il ticket d'ingresso particolarmente apprezzati, carri allegorico grotteschi. Calcio, battuta e scavalcata in classifica, la forte cittanovese Acireale sogna i play-off e intanto si gode il terzo posto. Ben trovati, buon inizio di settimana con il nostro Tg Reporter, capitolo scuole post-terremoto, cattive notizie per le scuole sant'antonesi, è andata deserta la gara per il ripristino delle scuole danneggiate dal sisma e il sindaco chiama in causa la dirigenza, i burocrati del comune. Santa Tecla, fine settimana costellato da disagi e assenza di pubblica illuminazione, la problematica ha riguardato mezza frazione. Ci soffermeremo inoltre sulla interessante e partecipata conversazione sulla legalità tenutasi la scorsa settimana ad Acireale, una lunga disamina sulla mafia e sui mezzi per combatterla. Una conversazione promossa dal vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Raspanti. Ma andiamo a cominciare con la corona canera, blitz antidroga, dicevamo, sabato pomeriggio a Giarre da parte dei carabinieri, arrestati in flagranza di reato due persone per possesso e spaccio di droga, tra i due un vigile urbano attualmente in servizio al comune di Giarre. È un vigile urbano in servizio a Giarre, il 34enne Domenico Angelino, uno dei due arrestati nell'operazione antidroga dei carabinieri, scattata sabato pomeriggio quando l'uomo è stato sorpreso dai militari a bordo di una Mercedes guidata da un 24enne, Orazio Leotta, autista di ambulanze e portantino sanitario che avrebbe tentato di eludere un controllo nei pressi dello stadio regionale di Via Olimpia. I due, prontamente bloccati, sono stati sorpresi con della cocaina, ma i militari hanno poi rinvenuto al termine di una perquisizione domiciliare in casa del 24enne altri 13 chilogrammi di marijuana. È stato proprio il vigile urbano Domenico Angelino, 34enne, originario di Randazzo, in servizio al comando di Via Callipoli dal 2011 e con precedenti di polizia, che, alla vista dei carabinieri, ha lanciato dal finestrino di una Mercedes un involucro contenente una modica quantità di cocaina, in tutto 5 dosi del peso complessivi di 3 grammi immediatamente recuperata e sequestrata dai militari. Nell'abitazione di Leotta, in Via Silvio Pellico a Giarre, poi, oltre al cospicuo quantitativo di droga, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente 7 grammi da taglio di tipo mannite, 5 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Leotta aveva con sé, nel proprio portafogli, anche due banconote contraffatte da 50 euro che sono state sequestrate. Il vigile urbano è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre Orazio Leotta è stato rinchiuso presso il carcere di Piazza Lanza a Catania. E per quanto riguarda il vigile urbano al momento agli arresti domiciliari, l'ufficio disciplinare del Comune lo ha sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale. Il sindaco ha intanto rilasciato una dichiarazione o ha preso con rammarico dell'arresto di un nostro agente di polizia locale, afferma Angelo Danna. L'ufficio ha subito attivato le procedure previste per tali avvenimenti e sospeso dal servizio l'agente fino alla conclusione della misura cautelare, salvo ulteriori provvedimenti nel caso di accertamento delle sue responsabilità. Ringrazio l'arma dei carabinieri, aggiunge il sindaco Danna, per il costante impegno profuso. Rinnoviamo la nostra collaborazione alle forze di polizia per un'azione di rilancio dei valori della legalità, punto cardine dell'azione quotidiana dell'amministrazione comunale. Stamane, aggiunge Danna, ho ricevuto la comunicazione ufficiale della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per venerdì prossimo e in tale sede ribadiremo la nostra esigenza di sicurezza e legalità. Ma restiamo a giarre, ieri sera una rapina è stata consumata ai danni di un centro scommesse di Viale Libertà. Ad agire tre uomini armati di pistola e taglierino, tutti con il volto travisato, sono entrati in azione poco dopo le 18.30 nel centro scommesse, armi in pugno, si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, magro comunque il bottino, poche centinaia di euro, indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno vagliando tutta la scena, immortalata dal sistema di videosorveglianza del centro scommesse. E adesso parliamo di Carnevale, nei titoli abbiamo detto buona la prima, ieri infatti al via il più bel Carnevale di Sicilia. Migliore esordio non poteva esserci per il Carnevale di Acireale, cominciato ieri con la consegna della chiave della città dal sindaco Stefano Ali alla madrina dell'evento, Rossella Brescia, celebre ballerina e conduttrice radiofonica e televisiva. Il taleo del nastro è stato affidato a Lavica, la mascotte in carne, ossa dell'evento carnascialesco, alla presenza del presidente della Fondazione, Orazio Fazio, del sindaco Stefano Ali, dell'assessore Palmina Fraschilla e del presidente del Consiglio Comunale, Sonia Botto. Migliaia le persone che hanno affollato Piazza Duomo per assistere al consueto appuntamento presentato dal direttore artistico Giulio Vasta e impreziosito dall'intervento degli acrobati Sonics che poi in serata hanno proposto un emozionante spettacolo. Centinaia di selfie con Rossella Brescia per il pubblico del Carnevale Acese che ha mostrato apprezzamento per l'organizzazione. È un carnevale di grande tradizione e si vede, ma anche di grande magia. Dalla consegna della chiave al calore delle persone, non potevo che essere nel posto più bello oggi, cioè questo a Cireale, bellissima, oggi tutta colorata. Ci sono dei carri fantastici che non vedo l'ora di vedere, ne ho visti alcuni, ne ho sbirciati. Voglio vedere quello di tutti i pazzi per RDS perché so che c'è anche questo carro. Grandi protagonisti i nove carri allegorico grotteschi in concorso che hanno dato vita alla grande parata d'apertura. Per quanto riguarda la novità principale, il ticket d'ingresso al circuito, registrate, file ordinate alle casse. Mi sento molto soddisfatto. La gente ha dato risposte e noi siamo felici. Magari qualcosina può non aver funzionato al meglio, ma miglioreremo nelle prossime giornate. Sto vedendo i carri meravigliosi, spilare Sibis, i gruppi in maschera che stanno dando vita e colore a tutta la manifestazione, siamo tutti orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che andremo a fare. Ogni spazio della città in questi giorni viene dedicato al Carnevale, ai suoi molteplici aspetti culturali e turistici. Nella mattinata di ieri è stato inaugurato il Museo del Carnevale nei locali della Fondazione in via Ruggero VII 5. Il museo, la cui direzione artistica è curata da Arcangela Trimarchi, è aperto gratuitamente al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Subito dopo è stata inaugurata la mostra di fotografia con collettiva d'arte e la personale dello scultore Placido Calì nella sala di lettura dell'Accademia Zelantea, sita all'interno del Palazzo di Città. Infine, nei locali dell'Istituto Santo Noceto è stata inaugurata l'esposizione del ventitresimo concorso Carri in miniatura, organizzata dal gruppo Liberi Artisti. Dal 23 febbraio al 5 marzo gli orari di apertura saranno 10.13 e 16.20, lunedì 4 dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 20. Prima domenica di Carnevale e segnalazioni di cittadini per problematiche connesse direttamente o indirettamente alla manifestazione di Re Burlone. Carnevale, senza dubbio una manifestazione cresciuta di livello, ma non mancano delle disfunzioni segnalate in redazione dei cittadini per problematiche connesse in qualche modo con la manifestazione. Cinque famiglie che abitano in piazza Cappuccini hanno in tal modo lamentato il fatto di aver dovuto pagare 5 euro per la sosta, che ha avuto modo comunque di trovare in ogni caso la disponibilità di un parcheggio in zona, al ritorno da una giornata di lavoro. Fino allo scorso anno, infatti, una parte di piazza Cappuccini veniva riservata dalla polizia municipale alla loro sosta, non avendo i citati residenti altre alternative. La segnalazione in tal senso era stata anche avanzata agli uffici di via degli Ulivi, ma ieri poi la mara scoperta che non era stato predisposto nulla. L'auspicio è che nell'arco dei prossimi giorni si possa così ritornare all'antico. La serata di ieri, con l'esibizione raffinata in piazza Duomo del gruppo di acrobati danzatori in grado di richiamare il pienone, per oltre una ventina di minuti dall'inizio dello spettacolo ha visto l'accavallarsi davvero incomprensibile dell'esibizione di un carro allegorico che, a tutto volume, dinanzi all'ingresso della cattedrale, ha avuto modo di evidenziare le sue effettive bellezze. Peccato però che ne è venuta fuori una grande confusione sonora, con molti dei presenti dislocati in una parte della piazza ridosso della chiesa, che perciò non hanno avuto modo di apprezzare nell'uno e nell'altro. In piazza ci si è chiesti quindi il perché di quella esibizione non fatta sospendere da chi di competenza della fondazione o chi per essa. Il carnevale ha visto ieri, anche grazie alla bella giornata, una notevole affluenza dalle località del comprensorio. Il biglietto da visita però per acireale di Via delle Terme non è stato certamente dei migliori. Il tracciato, infatti, che costituisce l'ingresso sud alla città, presenta delle sconnessioni e buche che in qualche caso assumono pure la connotazione di piccole voraggini. Anche in questo caso sono pervenute segnalazioni attinenti soprattutto però all'aspetto relativo alla sicurezza nella viabilità, con rischi soprattutto per i centauri che percorrono il tracciato e potrebbero fare delle rovinose cadute. Si sollecita un ripristino delle condizioni del mando d'asfalto. Adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità, tanti altri argomenti ci attendono tra pochi minuti. Carnevale di Acireale, domenica 17, sabato 23 e domenica 24 e da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo, nello straordinario circuito barocco di Acireale. Regalati un sorriso, sei sfilate con 9 meravigliosi carri allegorici oltre a grandi spettacoli. Sabato 23, Fernando Proce con Bianca Azei e Cristiano Malgioglio. Domenica 24 da amici Biondo, Emma, Lorene e Larua. Ingresso giornaliero in circuito, prezzo popolare, incluso spettacolo 5 euro. Info su carnevaleacireale.it Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci Blue. Ad Aci Reale, concept store in corso Italia 122. Ad Aci Catena, inviamatrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta limitazione. Plaza Toast ti porta al cinema. Prova il menù Cine Toast che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il margherita multisala. Da Plaza Toast si è sempre felici di andarci perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte, tra cui lo sweet toast. Il toast dolce con creme, nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro di arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti, energetici, disintossicanti o rinfrescanti. E novità, toast anche per celiaci. Plaza Toast, aperti a pranzo e a cena in piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345-816-2022. A posto! A posto! A posto! I professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto! Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto! In tutta Italia, in 1800 centri. A posto! Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. La famiglia Pasquini, mastri pastai dal 1970, in occasione del più bel carnevale di Sicilia, propone i piatti della tradizione carnevalesca. Casarecci al ferretto, maccheroni arlecchino, campanellini arcobaleno, rigatoni di carnevale ai sette buchi ed immancabile il sugo di carnevale con carne di vitello, maiale e cotenna. Dal 1970, pastificio Pasquini. Pasta fresca, gastronomia, condimenti. Corso Sicilia 59, Acireale. Nelle notizie che non sono buone per le scuole santantonesi, la gara d'appalto infatti per il ripristino delle strutture danneggiate dal sisma è andata deserta. Bisognerà fare tutto di nuovo. I genitori si dicono giustamente esausti. Il sindaco, dal suo canto, parla di disposizioni disattese dalla burocrazia. Cattive notizie per le scuole di Aci Sant'Antonio. I tempi di ripristino degli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono destinati a dilatarsi ulteriormente. Lo ha annunciato il sindaco, Santo Caruso, lo scorso sabato rispondendo ad una precisa domanda di chi chiedeva ragguagli sui lavori che sarebbero dovuti cominciare proprio oggi. Nei giorni scorsi l'ufficio ai lavori pubblici infatti ha bandito una gara d'appalto che è stata disertata. Una notizia inattesa che mostra ancora una volta come le esigenze della cittadinanza restino disattese per via di una burocrazia troppo farriginosa. Il 25 gennaio abbiamo avuto finalmente l'autorizzazione da parte del Dipartimento a poter utilizzare una risorsa che ci è stata data dal Dipartimento per sistemare, mi pare che sono 5 o 6 plessi che erano interessati da problematiche di natura lieve, quindi di inagibilità momentanea dell'edificio. Lo stesso giorno ho girato l'autorizzazione agli uffici preposti perché, e voglio chiarire una volta per tutti, il sindaco come figura istituzionale fa attività di natura politica, non può fare attività di natura gestionale, tutto quello che significa la gestione, quindi tutto quello che significa gara d'appalto, affidamento e tutto quello che significa è di competenza dei vari uffici. Io ho fatto subito una mia nota, una mia nota che si chiama direttiva all'ufficio lavori pubblici e ho dato le indicazioni per muoversi immediatamente nella predisposizione delle gare d'appalto e nell'affidamento immediato dei lavori. Devo dire purtroppo che in questo caso la burocrazia non è stata veloce. Ancora ad oggi sono partite tutte le procedure, si è scelto di fare una procedura di affidamento in un'unica gara, con un unico importo, cosa che io, e lo dico a voce alta, ma io faccio il sindaco, non faccio il tecnico. Non condivido tuttora perché essendo più progetti presentati si poteva tranquillamente far sì che avere più affidamenti, ma non perché volevamo agevolare più ditte, perché non volevamo fare più affidamenti per far sì che si potesse iniziare immediatamente in tutti i plessi interessati. Quindi l'unica cosa era questa, però ripeto non entro nel merito di scelte che sono di natura tecnica e io ovviamente poi ci sarà alla fine un resocondo su quello che viene fatto e è normale che la parte tecnica deve rispondere all'amministrazione sull'attività che è a post-sinistra. I genitori hanno perso ogni speranza, hanno la sensazione di essere sempre illusi da promesse che poi non vengono mai mantenute. Ci si aspettava che i doppi turni durassero pochi giorni e invece potrebbero durare fino alla fine dell'anno scolastico. I bambini e i ragazzi hanno dovuto rinunciare a tutti gli impegni extrascolastici, niente danza, niente sport, niente svaghi. Il pomeriggio per i piccoli risulta così devastante, fanno fatica a stare attenti e inoltre le ore di lezione sono in numero ridotto. E già qualcuno minaccia di trasferire i propri figli nelle scuole dei paesi limitrofi. Qualcun altro invece annuncia di non voler demordere e continuare a richiedere i diritti dei ragazzi. A voce spiegata. Disattese come sentito le disposizioni politiche da parte dell'ufficio lavori pubblici del comune di ACI Sant'Antonio e questo non fa altro che allungare i tempi. Da ACI Sant'Antonio ad ACI Catena sono iniziati sin dalle prime ore di questa mattina i lavori di messa in sicurezza del campanile della chiesa del convento attaccata all'edificio comunale da parte dei vigili del fuoco. Si tratta di un intervento delicato in quanto gli operatori sono ancorati, costretti a lavorare ad un'altezza di circa 60 metri. Entro oggi se non nasceranno criticità i lavori saranno ultimati. Il sindaco Oliveri esprime soddisfazione. Sento l'esigenza di manifestare gratitudine dice ai vigili del fuoco che sin dalle prime ore successive al forte sisma non ci hanno mai lasciato da soli. Nella giornata di ieri invece per restare in tema di interventi nelle chiese sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria della Pietà sempre ad ACI Catena. Oltre alla torre campanaria i lavori hanno interessato la facciata principale prospicente la viabilità primaria del comune. Frazione di Santa Tecla. Veniamo ad ACI Reale con diverse strade al buio. Un disservizio che ha avuto inizio dopo il temporale di venerdì sera. Santa Tecla nella serata del carnevale ad ACI Reale mezza frazione è rimasta al buio e ciò ormai non costituisce una novità in quanto nel tempo i disservizi in questa località della riviera dei Limoni sono ormai divenuti quasi una costante con cui diversi residenti si trovano a fare i conti. Nell'ultimo fine settimana, cioè il venerdì e il sabato le lampade senza interruzione di sorta hanno fatto le bizze nel senso che un paio di minuti anche di giorno risultavano accese per poi un altro paio di minuti essere spente. Tira e tira riguardo questa situazione l'impianto è andato così in tilt lasciando nell'oscurità con gravi rischi pure per la sicurezza mezzo paese. Coinvolta in questa difficile situazione la zona nord a partire dalla chiesa parrocchiale, poi la piazza Giovanni Paolo II, la via Canale Torto, le vie Fossa, Grotticella e aree attigue. Al centralino della polizia municipale sono così giunte le dovute segnalazioni riguardo la situazione esistente. In effetti anche per la concomitanza con il carnevale accese, il personale reperibile della sezione pubblica illuminazione intervenuto potendo constatare come il quadro elettrico avesse dei problemi seri di non facile soluzione, aspettando una fornitura di materiale e componenti che deve giungere da una ditta del nord Italia. Ci spostiamo a Gerre. Nuova assemblea questa mattina per i netturbini gerresi che mantengono lo stato di agitazione della categoria per il mancato pagamento dello stipendio. La mensilità di dicembre è stata saldata nei giorni scorsi ma dal mese di gennaio non si hanno certezze del mese di gennaio. I 45 lavoratori che, come si ricorderà, hanno dato vita un paio di settimane fa ad un settino di protesta, si sono dunque riuniti in assemblee alle ultime due ore del turno di servizio per fare il punto della situazione. Al centro dell'avvertenza non vi è soltanto la mancata corresponsione della mensilità di gennaio, già scaduta, ma anche le condizioni igieniche allarmanti in cui a sentire i lavoratori versa il cantiere. Le immagini del resto parlano da sole. Unica sigla non aver aderito allo stato di agitazione e quindi ad aver dato vita a questa assemblea, la CISL. Torniamo ad Acireale. Lo scorso venerdì conversazione sulla legalità. Ospiti del Vescovo Raspanti, il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, il procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro. Una lunga disamina sulla mafia, i suoi modi di agire sui mezzi per combatterla. Stringendo il crocifisso e alzando il dito verso il cielo, davanti a migliaia di giovani giunti da ogni parte, Papa Giovanni Paolo II, il 9 maggio del 1993, dopo l'assassinio dei giudici Falcone e Borsellino, dalla valle dei tempi di Agrigento si rivolse direttamente ai mafiosi. Questo popolo, popolo siciliano, disse, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili, convertitevi, perché verrà il giudizio di Dio. Prendendo spunto da questo storico discorso, lo scorso anno i Vescovi di Sicilia hanno redatto un documento dal titolo Convertitevi, che è stato oggetto di discussione durante la conversazione sulla legalità che si è tenuta lo scorso venerdì nella sala conferenza del credito siciliano di via Sclafani ad Acireale. A promuovere l'iniziativa è stato il Vescovo Monsignor Antonino Raspanti, suoi ospiti Federico Caffiero de Rao, procuratore nazionale antimafia, e Carmelo Zucchero, procuratore capo di Catania. La Chiesa non resta in silenzio, non a seconda cosa nostra che con meschina brutalità ha sporcato di sangue la Sicilia. Non c'è alcuna compatibilità tra la fede cristiana vissuta e professata e pratiche delinquenziali, ha affermato con forza Raspanti. Se appartenere alla struttura di Cosa Nostra diventa cruciale e fondamentale per chi entra in queste organizzazioni, la conseguenza è quella di uscire dalla Chiesa Cattolica. I mafiosi non sono uomini d'onore, ma della vergogna. Sono l'antistato, l'antivangelo e l'antiuomo, aggiunta ancora il Vescovo. Convertitevi significa passare dalle parole ai fatti. Io, pastore, non voglio condannare l'uomo che non sta nelle leggi, ma voglio aiutarlo a rompere nella sua coscienza con il male. Dio si giudica nella misericordia, ma sulla terra, ha concluso, abbiamo una responsabilità, cioè tagliare pubblicamente con chi non sta nella verità. Il procuratore Federico Cacchiero del Rao, invece, ha spiegato che le mafie si combattono con l'etica dei comportamenti. L'uomo deve essere sempre rispettato per quello che è affermato, la dignità umana prima di tutto. Il valore più importante è la libertà. La libertà e la Costituzione fanno ricchi l'uomo. La libertà è il principio di solidarietà per diventare cittadini consapevoli. Il procuratore Zucchero, invece, ha parlato dei nuovi volti della mafia, armi, capitali e collusioni con la politica e l'imprenditoria. Bisogna credere nella forza della legge per perseguire l'interesse pubblico e non quello personale, ha affermato. Bisogna rafferzare il senso di solidarietà tra gli imprenditori onesti che non accettano i vantaggi indebiti che derivano dai corrotti. Sono pochi coloro che con l'arroganza macchiano le nostre città. Non vi sono manifestazioni esterne eclatanti, però la mafia, purtroppo, non è in crisi. Adesso ci fermiamo. Spazio alla pubblicità nella terza parte, lo sport. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Villa Grazia. Due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia. Una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27 www.gruppovillagrazia.it Signor Canetta, siamo a casa nuova, si sveglia. Matt, 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 che fu che è successo qui? Aiuto! Io chiedi, mi montassero già tutto così e io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e ti smontano che manco, ti accorgi, è un sogno! La Sicilia Traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia Traslochi non ce l'hai? Surprise! Una buona sorpresa da 40 anni. Gusto, ingredienti di prima scelta, impasto a lunga lievitazione e ad alta digeribilità. Su questo abbiamo basato la nostra storia garantendo alla clientela un buon prodotto sempre. Se in questi ultimi 40 anni non vi è mai capitato di fermarvi al Surprise di Santa Tecla? Fatelo adesso, vi stupiremo con effetti specialissimi. La qualità, servizio a domicilio anche nelle frazioni vicine. Chiamateci allo 095 87 61 70. Surprise, locale climatizzato, via Nuova 8, Santa Tecla, Acireale Mare, www.pizzeriasurpriseacireale.it o anche su Facebook. Parliamo di calcio in apertura di terza parte del nostro giornale. In casa Acireale la magia continua, abbiamo detto nei titoli di apertura, battuta e scavalcata in classifica. La cittanovese, Acireale è da solo al terzo posto. La Cireale ingrana la quinta vittoria di fila. Piazza, la bandiera granata sul terzo posto in classifica domata. Sabato sera la cittanovese con un gol per tempo e Tupparello in estasi come non succedeva da tempo. Col vestito da sera e davanti al pubblico delle grandi occasioni mister Romano ripropone in blocco l'undici vincente con la San Cataldese preferendo stavolta Iannò a Di Pasquale come terzino. Nella cittanovese assenti il centrocampista trofo per squalifica e i difensori genovesi e Barilaro per infortunio. La prima parte di gara è equilibrata, le squadre si studiano. Il primo brivido al venticinquesimo con il gol annullato a Savanarola servito da Madonia ma beccato in offside dal guardaline. Urlo spezzato ma solamente rimandato. Alla mezz'ora poi altro pericolo dalle parti di Cassalia. Iannò fa il fenomeno, serve in aria Madonia che si libera al tiro ma non trova lo specchio della porta. La cittanovese gioca di rimessa, la Ciriale si lascia però preferire soprattutto per la determinazione e proprio della caparbietà di Manfrellotti che ruba palla Cianci in uscita che nasce il vantaggio accese al 37esimo sull'asse Madonia-Savanarola con quest'ultimo glaciale sotto porta. 1-0 a Ciriale, bacio allo stemma e corsa per difiato sotto la curva per il capitano accese cresciuto nel settore giovanile Granata. Si va al riposo così e nella ripresa nonostante i cambi operati da Mister Zitto tra le fila dei calabresi la tendenza del match non cambia. La Ciriale cerca con insistenza il raddoppio e dopo pochi minuti lo accarezza con la girata al volo di Madonia che si perde di non molto alta sulla traversa. Dall'altra parte intanto Biondi è attento e tempestivo sull'uscita bassa sul neo entrato post-Ori non ha lanciato a rete ma è sempre la Ciriale a lasciarsi preferire alla ricerca del raddoppio sicurezza. Al ventesimo però Madonia non approfitta dell'erroraccio di Manzueto e spara alto da ottima posizione. Poi prova ad accendersi l'argentino Abagian ma Campanaro lo contiene e lo costringe ad una conclusione così. Tra gestione del risultato e fischi del Tupparello si arriva all'ottantesimo. Napolitano slalomeggia tra le gambe di Granata, pesca in aria, Crucitti steso dall'uscita di Biondi e calcio di rigore secondo il direttore di gara. La serata magica della Ciriale rischia di spezzarsi proprio nel finale ma Biondi è un gatto sul piattone aperto di Crucitti dagli 11 metri e salva l'1-0 di Granata nel buato di liberazione dello stadio. Il sogno deve continuare, il destino lo ha già deciso e applica la regola più antica del calcio. Gol sbagliato, gol subito. Infatti tre minuti dopo è Manfrecataldi di testa a sigillare la vittoria realizzando il 2-0 che catapulta la Ciriale al terzo posto in solitaria. La magia continua, l'attrazione dei play-off è fortissima. La Ciriale torna a scaldare i cuori dei tifosi come non succedeva da anni. Termini e condizioni ideali per la prossima trasferta a Marcold in casa della capolista Bari. E al termine della gara le impressioni dei due tecnici Romano e Zito. Siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita, tre punti importantissimi che ci avvicinano a quello che era il nostro ed è il nostro obiettivo primario. In questo momento direi che siamo al 90% quasi fuori da tutte le situazioni di pericolo, però ancora bisogna fare qualche punto per avere la matematica certezza di una salvezza conquistata con merito. Sono contento, la squadra ha disputato un'ottima gara, in special modo nel primo tempo dove siamo stati aggressivi. sapevamo di incontrare una buona squadra, infatti la città novese secondo me è una delle squadre più forti che ho incontrato per organizzazione, per qualità e direi che alla fine abbiamo vinto con merito. Al primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni, abbiamo solo dominato la partita sotto tutti gli aspetti, al secondo tempo sì loro sono venuti fuori, abbiamo rischiato quasi niente a parte un retropassaggio, un'ingenuità nostra di Iannò, che poi è uscito bene Biondi e poi il rigore credo che sia nato da una situazione di rimpallo, la palla si è trovata a crucitti tra i piedi, però credo che non abbiamo mai rischiato nulla. Abbiamo solamente subito un po' la supremazia perché era anche logico che la città novese spingesse per cercare il pari, però ci siamo difesi abbastanza bene, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto secondo me anche meritatamente. Commentare una sconfitta per 2-0 tra l'altro dopo una prestazione simile ti lascia un po' di rabbia, di amarezza, però nel calcio poi alla fine conta solo il risultato, così dicono, non sono di questa idea, però alla fine i punti sono quelli. Io ritengo che già il pareggio per quello che si era visto in campo era un po' stretto a noi, per quello che avevamo fatto nei due tempi, però noi abbiamo commesso due leggerezze, loro ci hanno puniti, loro per demerito nostro, per bravura dei loro difensori centrali in particolare, per bravura del loro portiere che a 5 minuti dalla fine ha parato quel rigore a Crucitti, poi alla fine dobbiamo accettare il risultato del campo, c'è poco da fare. Non sono soddisfatto della prima frazione di gioco dove forse la mancanza di personalità, buttavamo palla e non è per noi, se noi buttiamo palla in avanti l'avversario la prende sempre, perché noi abbiamo calciatori tecnici, veloci, quindi è un non senso. L'episodio del rigore ha determinato sicuramente questa sconfitta, dobbiamo accettarla, non è successo nulla, pensiamo alla prossima con la Tour, se facciamo più presto questi quattro punti che potrebbero darci la certezza matematica della categoria, perché non abbiamo altri obiettivi da raggiungere. E adesso vediamo gli altri gol di giornata in Serie D. Giornata X, la numero 24 del girone E di Serie D. X non perché è cruciale rispetto alle altre, ma perché è dominata appunto dal segno X. Ben sei infatti i pareggi sulle nove gare in programma, uniche squadre a vincere, la Cireale, il Bari e il Città di Messina. Partiamo proprio dalla capolista, perché i galletti viaggiano spediti verso la Serie C. Ieri secco 3-0 all'Ocri, i calabresi resistono un tempo, poi al quinto della ripresa crollano, di Cesare infatti sugli sviluppi di un corner porta avanti il Bari, che poi in quattro minuti chiude il match tra il 28esimo e il 32esimo. Prima Simeri con uno strano pallonetto fa 2-0 scavalcando manno, poi è il solito Floriano a calare il tris, imbeccato sul filo dell'offside. In chiave playoff poi frena la corsa Il Gela, stoppato sul pari interno da una rotonda in forma, nonostante il penultimo posto in classifica. Al sedicesimo Ragosta segna un gran gol, porta avanti i siciliani, ma si fa male ed è costretto al cambio. Tre minuti dopo i gelesi accusano l'uscita del loro attaccante più in forma e al 33esimo subiscono il pari con Evaco, che approfitta di un'uscita a vuoto del portiere Castaldo. Va al città di Messina, poi il derby salvezza con la San Cataldese, una vittoria che nel 2019 non era ancora arrivata per i peloritani. Al decimo Galesio sul calcio di rigore fa 1-0, poi al quarantesimo Bonamonte raddoppia dal limite dopo una corta respinta della difesa nissena. Nella ripresa al 56esimo Gambino accorcia le distanze di testa, sovrastando il diretto avversario, ma al settantesimo l'autoretta di Longo spezza la determinazione degli ospiti e riporta a due i gol di vantaggio del città di Messina. La bella punizione di Gueye all'85esimo, così non serve a nulla per la San Cataldese, che in classifica scivola al terzo ultimo posto. Nelle altre gare invece 1-1 il derby calabrese Palmese-Roccella, buon pari esterno 0-0 del Messina a Castrovillari, stesso punteggio che l'Igge Virtus impone alla Nocerina, anche se classifica alla mano sarebbe servita una vittoria alla formazione siciliana. I peloritani infatti restano all'ultimo posto, staccati di 8 punti dalla zona play-out. La Nocerina invece si allontana da quella play-off, adesso distante 5 lunghezze. Bari sempre primo, Turris a seconda dopo lo 0-0 di ieri con il Marsala, che invece scivola al quarto posto, nel play-off anche la cittanovese, tallonata però da Gela e Portici. Il città di Messina infine con la vittoria di ieri si tira fuori dai play-out inguaiando i Locri, ma vedono la luce anche Messina e Roccella. E adesso uno sguardo anche agli altri campionati dilettantistici. In eccellenza cade l'ex capolista Biancavilla a Catania contro l'Atletico, e allora il Marina di Ragusa, battendo a domicilio il Milazzo, viaggia da solo adesso in vetta alla classifica. Frena ancora il Palazzolo, 1-1 a Scordia. E primo posto ancora di tante lunghezze, tante lunghezze. Il Giarre ha fatto suo il derby salvezza con la Sampio, la Ionica ha battuto il Rosolini, su cui adesso fa la corsa per i play-out il Reallaci, che ieri riposava. Nel girone C di promozione, con un gol di Daniele Costa, l'AC Catena batte il Giardini in Axos e vola al comando in solitaria, complice il turno di riposo del Pedara. Sconfitto in casa il Via Grande dal Carlentini, in chiave play-off l'AC Sant'Antonio. Non va oltre lo 0-0 a Villa Franca Tirrena, scivolando così al quinto posto. Nel girone E di prima categoria, fuga in vetta per il Palagonia, Corsaro a Giarre, 1-0, adesso a più 6 sul secondo posto, che è occupato dalla Nisiana, che ha perso la sua seconda partita consecutiva contro il villaggio Sant'Agata. Colpaccio play-off della Russo Calcio a Militello e aggancio al terzo posto. 1-1 dell'AC Bonaccorsi a Masca Lucia, play-off adesso di stanti due punti. Nel girone D di seconda categoria, vittoria e sorpasso in vetta del Caggi sul Furci, complice anche il pari della Robura Savoca. Il riposto ha battuto 2-0 il Casalvecchio, agganciandola al quarto posto. Il Santa Venerina con il pesante 4-0 al Librino si porta a meno 2 dai play-off. Il calcio lavinaio tiene un buon pari a lingua glossa, a Citrezza invece sconfitto a Mascali e sempre terzo ultimo in classifica. E adesso uno sguardo anche alle altre categorie sportive. Weekend così così per lo sport accese, sorridono Aquilia Cireale, volley maschile di Serie D e la garitta Cireale calcio a 5 di Serie C1, mentre si piange nel basket sia la Cireale che il San Luigi, nella pallavolo femminile di Serie C con la Golden Volley a Cicatena e nel Futsal di Serie C2 con la Stella Rossa Santa Tecla. Partiamo dalla garitta Cireale calcio a 5 di Serie C1 che sabato ha battuto 3-2, la PGS luce conquistando la quarta vittoria di fila che catapulta e granata più 7 sulla zona play-out, ma anche a meno 5 da quella play-off. Ritorna il Sereno dunque con una classifica che finalmente sorride alla garitta dopo momenti negativi che l'hanno vista piombare in zona spareggi salvezza. Non riesce a trovare continuità di risultati invece la Stella Rossa Santa Tecla in Serie C2. I tecloti infatti dopo l'impresa con la vice capolista eblea 99, sabato hanno perso 3-2 a Rosolini contro la Iano Trombatore. In classifica così la Stella Rossa sempre al terzo ultimo posto e sempre a 5 punti dalla salvezza diretta. Nella palla a volo femminile di Serie C poi KO sabato anche per la Golden Volley a Cicatena in casa della capolista Olimpia Paomar Siracusa. Netto 3-0 della Siriacusane con i parziali di 25-13, 25-10, 25-20. Un KO però indolore in termini di classifica perché le catenote restano a metà graduatoria con un ampio margine di vantaggio sulla zona play-out. Ha vinto invece nel volley maschile di Serie D la quiglia a Cireale che si è imposta 3-0 in casa del fanalino di coda Oro Don Bosco. Tre punti per gli accesi che restano al terzo posto in scia alla costa dolci Papiro Volley seconda e lontana, due lunghezze. Fine settimana nero infine nel basket in Serie C1. La Cireale ha perso ieri contro Adrano quinto KO consecutivo per il Granata adesso agganciato al penultimo posto dal 3-center Messina. 63-80 il finale al Palavolcan al termine di un verbi equilibrato e giunto sul 55 pari all'inizio del quarto set. Poi il blackout Granata con gli Adraniti che hanno imposto un parziale di 8-25 scavando un solco decisivo per la conquista della vittoria. Nel basket di Serie D poi ha perso anche il San Luigi che sabato è ceduto in casa contro la capolista Comiso. 81-107 il finale con gli ospiti che hanno impresso un ritmo alto fin dalle prime battute di gioco arrivando così all'intervallo lungo già avanti 33-55 un vantaggio di 22 punti poi amministrato nella seconda metà del match che ha permesso a Comiso di restare in vetta la classifica. Gli accesi invece restano al sesto posto complici i KO di Canicattì e Paternò. E adesso andiamo a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Cielo sereno e soleggiato con temperature stabili comprese tra 8 e 15 gradi 20 assenti mare calmo. Il Tg si ferma qui grazie per averci seguito prossimo appuntamento domani alle 13 e 40 arrivederci. Musica Musica Autore dei sorrisi